Allora appunto ovviamente Svevo seconda parte che vuol dire che sarà un incontro dedicato quasi esclusivamente alla coscienza di Zeno cioè al romanzo ultimo perlomeno tra quelli compiuti e pubblicati da Svevo, romanzo ultimo e considerato universalmente direi proprio con accordo totale da parte della critica letteraria considerato come il capolavoro di Italo Svevo. Allora io mi sentirei di fare subito alcune considerazioni molto molto pratiche. Allora la prima riguarda le date nel senso che la coscienza di Zeno viene pubblicata in realtà 25 anni dopo l'ultimo romanzo pubblicato sempre di Svevo. 1898 senilità, l'altro era del 92 quindi diciamo i primi due abbastanza ravvicinati ma dopo 25 anni interviene invece questa nuova pubblicazione. Abbiamo già detto giovedì scorso quali sono state le vicissitudini, le difficoltà, le incomprensioni che hanno portato Svevo a sospendere non tanto l'attività letteraria come lui diceva ma abbiamo chiarito che non succede così in realtà ma a sospendere comunque le pubblicazioni. Molte cose che sono state scritte in quel periodo che non sono romanzi ma racconti, romanzi brevi, saggi di tutto ma non il romanzo così come lo intendiamo vero tradizionalmente e quindi questo è il primo dopo 25 anni e sono 25 anni durante i quali davvero molto è cambiato sia dal punto di vista individuale, soggettivo, della vita proprio diciamo di Italo Svevo sia dal punto di vista generale, storico, collettivo e vediamo di essere sintetici nella definizione di questi cambiamenti perché poi ci serve per capire le differenze tra i primi due romanzi e la coscienza di Zeno. Allora le differenze di tipo individuale e soggettivo nella storia di Italo Svevo sono naturalmente legate fondamentalmente al lavoro, alla famiglia ma diciamo proprio al lavoro. Se fino alla fine dell'ottocento Svevo era stato costretto, obbligato in queste miserie diciamo di tipo professionale dell'impiegatuccio di banca o di assicurazione come i suoi personaggi ma di qualunque altro ma sempre impiegatuccio di tipo contabile in fondo il trascrittore, quindi davvero una attività priva di soddisfazioni e comunque assolutamente contraria rispetto a quello che avrebbe voluto, che cercava, che desiderava a Svevo, che si sentiva fondamentalmente letterato e intellettuale. E quindi i suoi personaggi dei primi due romanzi, Emilio Brentani e Alfonso Nitti risentono chiaramente, sono in qualche modo trasposizioni autobiografiche almeno per quanto riguarda l'attività lavorativa. Poi alla fine dell'ottocento interviene invece il cambiamento netto nella vita di Svevo che entra nella ditta Veneziani, vi ricordate, e da lì appunto inizia questa sua attività di industriale, imprenditore, commerciante. Inseriamo davvero anche l'attività di commerciante perché noi sappiamo che erano assolutamente collegate la produzione, poi prevedeva in quel tipo di azienda o comunque in quei tempi anche direttamente la vendita. Quindi ci sono queste esperienze che riguardano l'attività imprenditoriale e l'attività commerciale, cioè di vendita del prodotto, che danno naturalmente a Italo Svevo una possibilità di vita completamente diversa. Se prima la vita era appunto in fondo abbastanza limitata dalle condizioni economiche, invece a partire dalla fine dell'ottocento cambia completamente e appunto c'è un benessere, un grande benessere per Svevo e per tutta la sua famiglia e anche soddisfazione naturalmente perché abbiamo visto già giovedì scorso come l'attività imprenditoriale e commerciale di Svevo in fondo sia di un certo successo e quindi questo davvero cambia tanto nella personalità, nel modo di vivere naturalmente, ma nella personalità di Svevo. Se poi guardiamo i cambiamenti invece diciamo esterni, sono ancora più straordinari perché in questo passaggio di secolo continua quel avvio industriale, quel processo di industrializzazione che era già iniziato alla fine dell'ottocento ma che si afferma sempre di più, comportando peraltro, come ben sappiamo, una serie di trasformazioni che non sono soltanto, anzi inizialmente sono soltanto legate al modo di produzione e ai rapporti di lavoro ma che hanno rapidissimamente una ricaduta sull'assetto sociale, sulla struttura economica che giustamente, vero, ci fa parlare, come siamo sempre abituati a fare, di una rivoluzione, rivoluzione industriale, il termine non è casuale, naturalmente è legato a una trasformazione che consegue i modi di produzione ma che investe tutti i settori della vita umana. In questo contesto, in questo momento storico, la domanda è proprio relativa al ruolo dell'intellettuale ed è la domanda a cui i personaggi svediani rispondono a modo loro. Il ruolo dell'intellettuale che fino all'ottocento era in fondo quello di guida, aveva una funzione morale all'interno della società, ecco in una società impostata sull'economia in fondo, sul progresso, sul successo di conseguenza, vero, in questo tipo di società il ruolo dell'intellettuale diventa marginale, secondario e comunque di grande disagio perché tutto quello che avevamo detto giovedì scorso in termini di crisi di valori naturalmente si ripercuote sulla attività intellettuale che è questo in realtà il vero problema. Quando noi diciamo, come abbiamo espresso, ovvero nei titoli di questi nostri incontri, rapporto tra personaggio e società. Il personaggio di cui parliamo, che sono appunto i protagonisti dei romanzi di Svevo, è fondamentalmente un intellettuale. Quindi sarebbe, è giusto appunto dire in questo modo, ma potremmo dire con uguale correttezza il rapporto tra intellettuale e realtà, tra intellettuale e società, ma proprio tra intellettuale e realtà nel suo complesso, che va assolutamente in crisi. E si sente, dico l'intellettuale, così come ci viene raccontato da Italo Svevo attraverso i suoi personaggi, si sente privato di questo ruolo. Una sorta di vuoto si determina, che corrisponde comunque, dicevo prima, tutto il disagio anche dell'uomo comune in questa società in ribaltamento, in questo stravolgimento di valori e di significati. Quindi noi dobbiamo tenere presente, quando appunto ci raccontiamo della coscienza di Zeno, dobbiamo tenere presente che questi 25 anni di distanza rispetto ai romanzi precedenti non sono passati in vano. Le differenze quindi che noi non possiamo non notare tra i primi due romanzi e questo capolavoro sveviano sono in buona misura determinate da tutto quello che abbiamo detto. Allora, le differenze. Possiamo dire che ci sono naturalmente delle differenze sensibili. all'interno comunque, questo non va dimenticato, all'interno di una sorta di continuità tra i personaggi. Chi appunto, una parte di critica vero, che sottolinea, ha sottolineato nel tempo con, secondo me, una qualche esagerazione, le differenze, non tiene sufficientemente in conto quello che abbiamo detto poco fa. e cioè che alla base di tutto, di tutta la narrativa sveviana, in fondo, c'è proprio questa problematica vissuta in modo diverso, ovvero alla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, che è quella che risale al ruolo dell'intellettuale. Quindi questo proprio di base. Poi che ci siano appunto delle inettitudini in tutti i personaggi sveviani è altrettanto vero e vi richiamo appunto a quel significato di inettitudine che avevamo recuperato giovedì scorso e che dobbiamo tenere presente anche oggi perché sembra un significato deteriore e in parte lo è, ma in buona misura invece no, è semplicemente una constatazione vero, di difficoltà nell'entrare in una relazione, in un rapporto positivo, costruttivo con la realtà, l'uomo con la realtà che lo circonda. Ecco, è questa difficoltà, questa incapacità che ci fa parlare di inettitudine o di inetto e non è scorretto parlare di inetto. Sappiamo che lo stesso Svevo aveva intitolato il primo romanzo un inetto poi appunto prontamente corretto, portato insomma a correggerlo in una vita che è un po' più accattivante diciamo come titolo. Bene, quindi questi sono i caratteri comuni come anche in una certa misura, con tutte le differenze del caso, anche la società di base che è sempre una società borghese con degli inserimenti poi estremamente rilevanti di personaggi che non appartengono alla borghesia e che quindi ci portano, ci conducono ovvero grazie a Svevo a un'indagine sulla società del tempo che è fondamentalmente indagine sulla società borghese ma non esclude anche altre classi sociali come abbiamo visto anche nei due romanzi precedenti. Bene, le differenze, quindi se abbiamo detto queste sono le analogie di fondo perché questo è il significato poi centrale è vero, di tutta la narrativa sveviana questo tipo di difficoltà appunto che l'uomo intellettuale incontra nel rapportarsi a una società in trasformazione, in cambiamento, dicevamo anche società di massa stiamo gradualmente arrivando a una massificazione della società e di tutto quello che appunto si tende a considerare importante, valido all'interno di una società. Dicevo poi, forse anche il giovedì scorso, anche la Prima Guerra Mondiale contribuisce a dare questa sensazione di società di massa appunto nel momento in cui masse di soldati si ritrovano contemporaneamente a condividere i momenti più difficili della vita, il rischio di morte ad esempio. Bene, diciamo allora delle differenze tra i personaggi precedenti e Zeno Cosini. Le differenze stanno in modo molto evidente prima di tutto nella origine sociale, nella classe sociale a cui appartengono questi personaggi. Se i primi due, dicevamo, sono dei piccoli impiegati, quindi piccola borghesia intellettuale, anche se vogliamo, con delle ambizioni di romanziere, eccetera, comunque sono poveri. Ecco, detto nel modo più esplicito possibile, sono poveri. Zeno Cosini è ricco, nasce da una famiglia estremamente benestante e per tutta la sua vita avrà questo favore, insomma questa fortuna, anche nel matrimonio, perché la donna che sposerà sarà comunque anche lei un appartenente a quella stessa classe sociale che è quella appunto dei commercianti, di chi lavora in borsa e quindi guadagna attraverso l'attività di borsa, il padre, ad esempio il suocero, il padre della moglie, svolgerà proprio questo tipo di attività e sarà uno dei personaggi più ammirati da Zeno. Bene, quindi già questa è una base di partenza completamente diversa che permette a Zeno di non svolgere attività che non gli piacciono, anzi, per la maggior parte della sua vita Zeno è inattivo, non lavora, poi arriverà il momento, uno Zeno più maturo, è vero, è poi condizionato da tutta una serie di eventi che si verificano nel romanzo, che vengono raccontati nel romanzo, si dedicherà a sua volta alla stessa attività della sua famiglia e della famiglia della moglie, cioè l'attività un po' di commerciante, di compravendita, diciamo, di merci di vario genere e l'attività di borsa e quindi con la possibilità di guadagni con anche un successo tra l'altro che nessuno tra tutti quelli che conoscevano Zeno Cosini avrebbe mai pensato di decretare per lui. Sembrava veramente incapace in quel tipo, non soltanto appunto incapace nel senso che dicevamo prima dell'inettitudine alla vita che caratterizza questi personaggi, ma incapace proprio nella fattispecie di gestire attività commerciali o imprenditoriali o finanziarie insomma produttive. Quindi c'è, dicevo, un contesto molto diverso, i personaggi svolgono una vita molto diversa e allora altra considerazione che non possiamo evitare tra le vite dei due personaggi precedenti e quella di Zeno Cosini c'è una differenza sostanziale in termini proprio di felicità. Ora, non diciamo che il benessere da felicità ci mancherebbe altro, però in questo caso possiamo dire che almeno il fatto che Zeno Cosini sia sollevato rispetto agli altri due personaggi dalle difficoltà economiche che finiscono per uccidere, sul uccidio, ma insomma, il nostro Alfonso Nitti, vero? e che riducono la vita di Emilio Brentani a una vita in cui l'unico fatto centrale è una sorta di sublimazione di un amore peraltro infelice che rimane appunto il momento comunque centrale di tutta una vita. Ecco, questi personaggi sono già in partenza destinati a qualche infelicità in più. Non diciamo che Zeno Cosini sia felice perché lo vedremo, ovvero ha una serie di problemi che diventano anche problemi fisici che non sono da poco, fisici sempre di tipo nervoso come dicevano ai tempi di Zeno Cosini. Comunque problemi che denotano quindi una difficoltà, un disagio, un malessere che possiede anche lui ma rispetto agli altri due personaggi chiaramente è più fortunato e più felice, non felice, più felice rispetto agli altri due che hanno comunque una soluzione di vita in termini di sconfitta e inevitabilmente sconfitta e basta, insomma, finisce in questo modo la vicenda degli altri personaggi. Bene, Zeno Cosini denota una serie di malattie, quelle che lui chiama malattie, la prima delle quali che l'accompagna addirittura dalla primissima adolescenza è la malattia del fumo che diventa una dipendenza rapidamente, diventa una dipendenza impressionante perché lui stesso ve lo rivela di aver trascorso tempi della sua vita con questo condizionamento, con questa dipendenza dal fumo che lo portava a fumare 60 sigarette al giorno anche di più. Insomma, veramente preoccupante anche ai tempi, preoccupante e comunque considerata un po' da tutti e soprattutto da lui come una dipendenza sconveniente perché comunque non è già la definizione stessa di dipendenza, vero, ci spiega come sia vivere con un condizionamento così pesante, così ineludibile. E allora la ricerca, il tentativo a partire dalla giovinezza è quello di liberarsi da questa dipendenza, da questo condizionamento che lui stesso capiva essere esagerato e tutti sappiamo quindi come sia diventata dal punto di vista proprio delle parole con più, delle frasi diciamo più frequenti in letteratura la definizione di ultima sigaretta U.S., vero, tipica delle annotazioni ricorrente nelle annotazioni di Zeno Cosini che da quando decide che sarebbe opportuno rallentare questo vizio del fumo o comunque addirittura annientarlo completamente prende l'abitudine di annotare dovunque, prima su dei taccuini poi addirittura sulle pareti della camera delle date che avessero un significato come data di ultima sigaretta e poi appunto vedremo leggeremo perché anche se questi sono i passaggi più noti più famosi è vero del romanzo di Svevo tuttavia credo che non possiamo saltarli così soltanto perché hanno una fama ampia e diffusa ma poi ci sono altri mali che condizionano pesantemente la vita di Zeno Cosini e sono mali che diventano fisici ma partono appunto da una predisposizione da un appunto disagio psichico dolore i dolori alle gambe e anche qui ci sono dei brani assolutamente famosi che pure cercheremo di percorrere di leggere perché sono oltretutto una fonte di ironia e qui arriviamo a un altro elemento fondante della narrativa sveviana per quanto riguarda la coscienza di Zeno che non era presente negli altri romanzi l'uso della ironia che interviene anche nelle situazioni più difficili più tragiche più sofferte da parte dei personaggi a smussare ecco non a caso il paragone che viene fatto spesso tra la narrativa sveviana nella coscienza di Zeno e con Charlie Chaplin vero nel famosissimo suo film Mondi moderni ecco non a caso viene ritrovata in modo ricorrente in tutta la critica sveviana perché è quel utilizzo di un elemento di alleggerimento delle tensioni che fa magari sorridere ma senza togliere comunque la consapevolezza della gravità della situazione dell'amarezza di fondo della situazione e rende comunque la lettura estremamente piacevole ci sono momenti in cui non solo si sorride nella lettura della coscienza di Zeno ma anche qualche cosa in più del semplice sorriso ecco quindi anche questo è un elemento se vogliamo di novità che poi nella scrittura sveviana di questi periodi di questi anni ritorna ripeto non nei primi romanzi ma in quelli appunto del novecento diciamo a partire dall'inizio del novecento in poi ecco un altro elemento in generale vero che io vorrei richiamare in questa nostra introduzione è quello dei paragoni dei confronti con altri scrittori della grande letteratura europea del novecento e in prima istanza Joyce e Proust io non voglio insistere su questi aspetti perché direi che è abbastanza scontato ed inevitabile che operando comunque su una stessa lunghezza d'onda ci siano degli scambi ci mancherebbe altro e ad esempio per quanto riguarda Joyce e Proust per quanto riguarda Joyce è sicuramente la tipologia umana che esce dalle pagine di Joyce che in qualche modo richiama reciprocamente insomma si richiamano con i personaggi di Svevo e in modo poi di narrare di cui parleremo subito dopo e per quanto riguarda Proust certamente la considerazione complessiva generale del tempo di un tempo di un tempo che non è soggettivo non è oggettivo ma è soggettivo di un tempo quindi che cambia come misure come incidenza a seconda dello stato d'animo di chi lo sta vivendo ovvero quel tempo e lo dico così in modi molto semplici ma per non trascurare nessun aspetto di tutto quello che possiamo che ci può aiutare nella collocazione di Svevo in una dimensione che abbiamo detto più volte di letteratura europea passiamo adesso all'ultimo argomento di questa nostra introduzione che riguarda invece la struttura del romanzo anche qui completamente diversa rispetto ai romanzi precedenti e allora diciamo rispetto al romanzo ottocentesco anche i romanzi Una vita e Senelità in fondo seguivano questa struttura tradizionale del romanzo che procede quindi in senso rigorosamente cronologico e che viene narrato da un ente esterno un narratore che è praticamente onnisciente quindi sa dei personaggi dei personaggi diversi e ne diventa in qualche modo interprete attraverso un'operazione diciamo di mediazione bene invece in questo romanzo intanto viene scardinato completamente il tempo la cronologia quindi perché il romanzo è suddiviso per argomenti più che per capitoli e ciascuno di questi argomenti in fondo si svolge in verticale partendo magari da un momento di giovinezza di adolescenza di di Zeno per arrivare poi alla narrazione matura di anni diversi dalla maturità di quello stesso argomento il fumo ad esempio dicevo prima il fumo che appartiene alla vita di Zeno Cosini fin dall'adolescenza e che poi evolve come problema come tematica evolve fino ad arrivare appunto a un'età più matura questo avviene più o meno per tutti gli argomenti dico più o meno avviene per tutti gli argomenti in misura diversa ecco questo volevo dire perché per alcuni argomenti i richiami continui tra il presente e il passato della storia il presente della storia e il passato si fanno più frequenti in altri meno ma questa è la struttura complessiva del romanzo comprendendo tra l'altro in questi capitoli sono otto in realtà otto argomenti comprendendo i primi due che sono una prefazione e una premessa che appunto noi di cui ci occuperemo sono comunque molto brevi perché è una tratta è addirittura una lettera di una pagina scarsa scritta dal dottore psicoanalista analista che ha in cura che ha assunto in cura Zeno Cosini diciamolo subito la psicoanalisi è presente in tutto il romanzo di Zeno in tutta la coscienza di Zeno il titolo stesso del resto ci dà un'indicazione precisa sulla su una delle scelte tematiche centrali di questo romanzo la coscienza quindi è un'indagine sulla coscienza sulle stratificazioni della coscienza e sul recupero quindi della della di quello che è sprofondato ovvero nella nell'inconscio e che viene attraverso la scrittura appunto quindi riportato alla superficie quindi alla coscienza del personaggio e rivelato rivelato a se stesso prima di tutto perché questo è un romanzo che è da collocare nella finzione è vero di un romanzo scritto per a scopo terapeutico per guarire bene comunque dicevamo la psicanalisi che percorre tutto il romanzo perché è di interesse di Svevo appunto dell'autore vero che ne sa che si è impegnato che ha letto che ha capito di Freud della psicanalisi tuttavia la psicanalisi viene in fondo criticata non viene considerata come valido strumento di terapia dall'inizio alla fine del romanzo la critica di Zeno che nonostante tutto vero si adegua a queste richieste a questa richiesta del suo dottore dottore S si chiama ebbene si adegua perché scrive in realtà scrive poi smetterà di scrivere a fine del romanzo appunto sarà questa vero smetterà di scrivere perché sarà guarito e allora la guarigione di tutti i mali che abbiamo elencato prima compresi altri mali che non hanno diciamo una ricaduta fisica ma che comunque contribuiscono a creare disagio sofferenza senso di colpa in svevo sono i tradimenti a cui va incontro è vero e che infligge a una moglie che peraltro ama e vedremo come che peraltro ama e che è comunque la sua salvezza di vita e sono anche appunto tutte le difficoltà che incontra con i personaggi anche della famiglia con le persone di famiglia che quindi lo rendono sempre più fragile ecco arriverà soltanto il successo lavorativo per risanare vero questo personaggio che per tutto il tempo della storia è combattuto tra queste due opposte condizioni vero salute e malattia la malattia abbiamo detto per lui è una malattia di origine nervosa è una malattia sempre per usare la definizione del tempo vero è una malattia che deriva da altri da problemi appunto di tipo psichico perché comunque è neurotico il personaggio è appunto vero in preda a varie nevrosi che emergono in momenti diversi della della vicenda e la salute la salute che lui attribuisce a dei personaggi che in realtà non tutti si riveleranno poi sani nel senso che intende Zeno e cioè una salute psicofisica la moglie sì certamente per tutto il romanzo avrà questa connotazione di equilibrio di serenità di capacità di accogliere Zeno con tutte le sue contraddizioni con tutte le sue conflittualità ma altri personaggi tra i tanti vero del romanzo che vengono ammirati da Zeno Cosini per la loro salute si riveleranno poi invece personaggi in difficoltà personaggi in crisi a partire da Guido il suo antagonista in fondo il suo avversario nella conquista della amata che non è la moglie Augusta la moglie è la sorella di questa Ada di cui Zeno crede di essersi innamorato e che gli viene contesa da un personaggio completamente diverso da lui Guido Speyer bello brillante abile nel violino accattivante capace di piacere a tutti al contrario di Zeno appunto ecco questi personaggi Ada ad esempio e Guido Speyer che lui considera come emblemi come simboli della salute invece sono personaggi che andranno incontro a vicende di malattia e di morte ma sempre non di malattia di vero patologie fisiche parliamo parliamo della malattia in senso sveviano e poi altri personaggi fondamentalmente il suocero che sembrava una roccia lui si avvicina alla famiglia di quella che sarà la sua futura moglie proprio in funzione di questo suocero brillante anche lui operatore di borsa di grande successo commerciante di grande successo anche lui appunto appartiene quindi a questa dimensione sociale e che sembra veramente incarnare quella salute psicofisica che Zeno avrebbe voluto fare sua e il suocero invece mostrerà tutta una serie di sue difficoltà ma anche proprio di cattiveria e tutti questi personaggi hanno un risvolto anche un po' cattivo sempre per intenderci usare aggettivi di grande comprensione di facilità di comprensione tutti hanno qualche cosa di cattivo come negli umani quella infinite sfumature di grigio che appartengono a tutti gli umani nel senso che non esiste la quintessenza del male generalmente parlando come è ovvio vero e nemmeno la quintessenza del bene se non nella figura del santo che comunque viene accantonata in altri ambiti ma ecco lasciamo questi discorsi ma per arrivare a quella conclusione finale che poi appunto ripercorreremo ovvero nelle diapositive del romanzo di un romanzo ripeto che sembra facile invece è di grande complessità nella lettura e che quindi richiede da parte del lettore una capacità di interpretare di leggere con appunto tutti i collegamenti le connessioni i confronti possibili tra i diversi comportamenti del personaggio che si rivela di volta in volta che è quindi impostato fondamentalmente su una sorta di analisi interiore ecco appunto dicevo l'elemento della psicologia freudiana che c'è percorre tutto il romanzo sogni compresi e che comunque è portato proprio dalla scelta di scrivere di sé e della propria storia è portata a questo scavo interiore attraverso il quale recupera il suo passato con tutte quelle appunto dicevamo sempre contraddizioni ma quella capacità anche di trovarsi degli alibi quella capacità di assolversi di autoingannarsi che è tipica di Zeno Cosini per salvarsi in qualche modo per evitare di cadere appunto in una in una in una sorta di depressione da cui sarebbe difficile poi riemergere e la conclusione dicevo avviene proprio nel momento in cui nel passaggio della guerra mondiale in realtà Zeno Cosini si ritrova a capo di questa sua attività e riesce a ottenere un successo economico non indifferente questo gli darà grande grande sicurezza come logico che sia ma gli farà superare come lui stesso vero arriva a testimoniare nel finale del romanzo gli farà superare la malattia Zeno Cosini si considera guarito e quindi smetterà di scrivere di seguire quindi questa indicazione generica che gli aveva fornito il suo medico il suo psicanalista e si considererà guarito in realtà perché è guarito Zeno Cosini e da che cosa è veramente guarito il fatto è che lui adesso si ritrova si riconosce completamente sano perché è riuscito per i motivi più diversi ad adeguarsi a integrarsi in una società che lui stesso rivela come completamente malata ecco è questa la contraddizione finale del romanzo quando lui ci parla di questa esplosione molti di voi sapranno vero l'ultimissima pagina del romanzo è proprio quella legata a una sorta di guerra comunque di esplosione che distruggerà da cui l'uomo dovrà rinascere e ripartire insomma ebbene questa che è stata considerata una previsione ma non è una previsione è proprio la conclusione logica in fondo di questo romanzo per questo personaggio che si ritrova guarito che si sente non è così una decisione vero presa a livello intellettuale lui si sente guarito proprio nel momento in cui invece più che mai si è integrato in quella società da cui prima si sentiva respinto ma la società continua a essere malata e lui lo dice in questa pagina finale della deflagrazione finale va bene alcune cose le abbiamo dette adesso altre vero cerchiamo di dircele all'interno di questa di queste cioè utilizzando queste slides ecco spero che si veda giusto si vede si vede benissimo allora spostando sempre questa fascetta vero in modo che non ci dia fastidio bene passiamo quindi alla questa così schema che è quello utilizzato generalmente per capire com'è strutturato com'è impostato il romanzo voi vedete che c'è una prefazione e un preambolo la prefazione è quella paginetta che leggeremo adesso insieme il preambolo qualche pagina in più per introdurci al personaggio è sempre Zeno che parla di sé tra l'altro ecco un rapido richiamo che comunque rientra nella tematica del romanzo del personaggio Zeno questo nome che sembra un po' strano in greco significa xenos e significa straniero e certamente non è casuale poi voi vedete il fumo morte del padre matrimonio moglie amante un'associazione psicoanalisi quindi passiamo rapidamente a quella successiva che è appunto la prefazione che vi ho anticipato in vari modi io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere come dicevo la critica di Zeno alla psicoanalisi e a questo suo dottore che in qualche modo richiama Freud potrebbe richiamare Freud se non altro per la sigla iniziale S Sigmund ma non è detto perché poi Svevo conosce altri analisti cui nome comincia per S quindi non è detto vabbè comunque dicevamo la critica è esplicita e nonostante sia il romanzo intriso di elementi psicoanalitici allora chi di psicoanalisi si intende sa dove piazzare l'antipatia che il paziente mi dedica di psicoanalisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia gli studiosi di psicoanalisi arriceranno il naso a tanta novità ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse che l'autobiografia fosse un buon preludio alla psicoanalisi oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie e quindi appunto è totalmente insoddisfatto naturalmente il medico di questa interruzione tant'è che dice le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia e questo è un gioco narrativo naturalmente che il dottor S pubblichi questi questo scritto di Zeno vero di Zeno Cosini senza interpellarlo è ovviamente poco è improbabile diciamo ma è un gioco appunto come spesso fanno gli autori nel momento in cui introducono un loro romanzo una storia sappia però che io sono pronto di dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura sembrava tanto curioso di se stesso se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie che egli ha qui accumulate verità e bugie questo è un avvertimento che il lettore deve sottolineare immediatamente Svevo comunque il dottoresse ci stanno avvisando che quello che leggiamo è naturalmente il punto di vista di Zeno non può essere diversamente ma non si sa mai che il lettore se ne dimentichi in una lettura non breve in fondo allora bisogna richiamare fin da subito l'attenzione su questo aspetto essendo ovviamente una narrazione di tipo di tipo soggettivo non può che essere un cumulo di verità e bugie bugie magari involontarie può essere ma questo ma questo è quindi il lettore non deve interpretare tutto quello che viene raccontato come realmente e in modo così radicalmente diciamo radicale avvenuto come se appunto il dubbio su tutto quello che Zeno ci racconta fosse sempre necessario ed è così infatti allora quando noi parliamo di questa di questo intervento della della psicanalisi nel romanzo sveviano parliamo anche di una modalità narrativa che si adegua che si confa a una narrazione appunto psicanalitica in cui la psicanalisi diciamo ha una parte così importante che è il monologo interiore è una modalità narrativa che sta a significare che è il personaggio stesso che racconta di sé che quindi da solo opera quella sorta di scavo nelle varie stratificazioni della sua coscienza che lo porta a recuperare delle interpretazioni che possono essere appunto vere o false ci dice il dottoresse vero ma che ci porta a recuperare delle interpretazioni delle giustificazioni o anche dei riconoscimenti di colpa per tutto quello che è stato la sua vita che sono stati i fatti i personaggi gli eventi della sua vita e che hanno dato origine in lui a questa malattia che non riuscirà a superare se non alla fine in età anziana e qui arriviamo all'ultima sigaretta nel capitolo naturalmente che si intitola il fumo l'ultima sigaretta leggiamo almeno la definizione che ci dà all'inizio ovvero penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando è l'ultima anche le altre hanno un loro gusto speciale ma meno intenso l'ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forze e di salute permane ma va un po' più lontano le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più vari ed anche ad olio il proponimento rifatto con la fede più ingenua trovata adeguata espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al proponimento anteriore certe date erano le mie preferite per la concordanza delle cifre del secolo passato ricordo una data che mi parve dovesse sigillare per sempre la vara in cui volevo mettere il mio vizio nono giorno del nonno mese del 1899 significativa ne è vero il secolo nuovo ma portò delle date ben altrimenti musicali primo giorno del primo mese del 1901 ancora oggi mi pare che se quella data potesse ripetersi io saprei iniziare una nuova vita ecco poi lascio a voi il gusto di leggere dal rimanente della pagina che ho inserito perché davvero è entrato diciamo in una sorta di mitologia letteraria è vero l'ultima sigaretta di Zeno e non possiamo dimenticarcene a un certo punto dopo il matrimonio di cui ancora non si è parlato in questo capitolo che si intitola Il fumo sia ben chiaro noi non sappiamo niente della moglie di Zeno sappiamo così come ci dice nella narrazione di questo capitolo sul fumo che c'è una moglie che è molto amorevole nei suoi confronti che lo sostiene lo aiuta lo supporta e che a un certo punto non perché sia lei preoccupata da questo suo eccesso di fumo ma perché è lui che ne è preoccupato gli consiglia di sottoporsi a una cura e la cura significa rinchiudersi in una clinica dove non vedrà neanche una sigaretta per un tempo abbastanza lungo fino a che si sarà quindi disintossicato e Zeno decide decide di fare di tentare diciamo una soluzione di questo problema che lui da solo non era capace di trovare proprio per quello che ci dice prima è vero l'ultima sigaretta è un facile rifugio è una data futura che per intanto ci permette di fumare senza sensi di colpa in allegria insomma quindi non funziona l'ultima sigaretta tentiamo con questa reclusione e alla sera è una sera appunto si reca in questa clinica con la moglie dove parla col dottore spiegai al dottore che ne avevo prese con me solo due di sigarette e che volevo cessare di fumare in punto alla mezzanotte mia moglie si congedò da me insieme al dottore mi disse sorridendo già che hai deciso così sii forte il suo sorriso che io amavo tanto mi parve una derisione e fu proprio in quell'istante che nel mio animo germinò un sentimento nuovo che doveva far sì che un tentativo intrapreso con tanta serietà dovesse subito miseramente fallire mi sentii subito male ma seppi che cosa mi facesse soffrire soltanto quando fui lasciato solo una folle amara gelosia per il giovane dottore lui bello lui libero lo dicevano la venere tra i medici perché mia moglie non l'avrebbe amato seguendola quando se ne erano andati egli le aveva guardato i piedi elegantemente calzati era la prima volta che mi sentivo geloso da che mi ero sposato quale tristezza si accompagnava certamente al mio abietto stato di prigioniero lottai il sorriso di mia moglie era il suo solito sorriso e non una derisione per avermi eliminato dalla casa era certamente lei che mi aveva fatto rinchiudere pur non accordando alcuna importanza al mio vizio ma certamente l'aveva fatto per compiacermi e poi non ricordavo che non era tanto facile di innamorarsi di mia moglie se il dottore le aveva guardato i piedi certamente le aveva fatto per vedere quali stivali dovesse comprare per la sua amante ma fu mai subito l'ultima sigaretta e non era la mezzanotte ma le 23 un'ora impossibile per un'ultima sigaretta e quindi tutto questo già ci dice quale sarà la conclusione di questo tentativo scappa Zeno scappa la sera stessa vero fugge da questa clinica e deve proprio fuggire perché altrimenti l'avrebbero trattenuto in qualche modo quindi scappa con questa convinzione che vedete lui combatte ecco appunto le giustificazioni le indagini su di sé ma è possibile che la moglie davvero sia innamorata di questo medico in fondo l'ha mandato lei nella clinica ma perché per la sua volontà perché era lui a desiderare di superare il problema del fumo ecco tutto questo modo vero complesso e abbastanza come dire profondo insomma di indagare sul suo stato d'animo comunque lo porta alla disperazione l'ultima sigaretta non era neanche mezzanotte erano le 23 non si può certo concludere così un percorso di fumo accanito alle 23 che senso ha cogliamo un altro elemento in questa pagina che non è facile innamorarsi della moglie ecco anche qui noi dobbiamo aprire una pagina molto a sua volta vero contorta della storia di Zeno perché Zeno è convinto e lo vedremo poi nelle prossime slides è convinto che la moglie non sia bella tuttavia anche questo appare contraddittorio perché ci sono elementi che ci portano invece a una conclusione diversa che portano il lettore attento e avvertito da quello che ha detto nella prefazione il dottoresse vero cumulo di verità e di bugie quindi porta il lettore a indagare di più su questo per quello che è possibile ricavare dal romanzo naturalmente su questo aspetto esteriore della moglie per scoprire ve lo anticipo è vero che non era certamente brutta questa moglie augusta oltre a essere amorevole dolce eccetera eccetera ma siamo in un momento ancora diverso sempre nel capitolo sul fumo Zeno tenta vero varie strade non riesce l'una e allora ne prova diverse vediamo in alcune di questi confronti con i medici emerge poi prepotente il suo rapporto con le donne gli raccontai della mia miseria con le donne una non mi bastava e molte neppure le desideravo tutte per istrada la mia agitazione era enorme come passavano le donne erano mie le squadravo con insolenza per il bisogno di sentirmi brutale nel mio pensiero le spogliavo lasciando loro gli stivaletti me le recavo nelle braccia e le lasciavo solo quando ero ben certo di conoscerle tutte sincerità e fiato sprecati il dottore ansava spero bene che le applicazioni elettriche non vi guariranno di tale malattia non ci mancherebbe altro io non toccherei più un room corf se avessi da temerne un effetto simile erano delle applicazioni elettriche che al tempo si credeva potessero aiutare a superare il problema del fumo non chiedetemi come perché proprio non riesco a immaginarlo ma questo era un medico che operava così fu altro altro brano sempre del capitolo del fumo fui sincero come in confessione la donna a me non piaceva intera ma a pezzi di tutte amavo i piedini se ben calzati di molte il collo esile oppure anche poderoso e il seno se lieve lieve e continuavo nelle numerazioni di parti anatomiche femminili ma il dottore mi interruppe queste parti fanno la donna intera dissi allora una parola importante l'amore sano è quello che abbraccia una donna sola e intera compreso il suo carattere e la sua intelligenza fino ad allora non avevo certo conosciuto un tale amore e quando mi capitò non mi diede neppure esso la salute ma è importante per me ricordare di avere rintracciata la malattia dove un dotto vedeva la salute e che la mia diagnosi si sia poi avverata ecco appunto sempre l'ironia sveviana nel momento in cui contraddice il medico che vuole alleggerire questa sua convinzione di malattia rispetto alle donne perché gli dice tutte le parti poi fanno la donna intera ecco che appunto lui si sente particolarmente così importante e capace perché è stato in grado di ricordare al medico che non è questo l'amore sano come lo intende lui ma è quello che abbraccia tutta la personalità di una donna nella fattispecie altro capitolo altro passaggio importante della storia di Zeno Cosini la morte del padre Zeno è orfano di madre dall'età di 14 anni ha sempre vissuto col padre un padre con cui non c'è stata nessuna intesa che comunque lo ha lasciato fare perché Zeno è passato lo dicevamo da una facoltà all'altra dell'università senza arrivare comunque a conclusione appassionandosi di volta in volta a una scienza la chimica piuttosto che è la giurisprudenza e poi distaccandosene molto rapidamente con un atteggiamento di dilettantismo vero così possiamo dire che poi lo contraddistingue per tutta la sua vita è parte proprio del suo carattere questo padre così tutto sommato accondiscendente ecco non potremmo dire altro accondiscendente ma che non lo stima comunque gli permette una buona vita gli permette un'ottima vita di tanto in tanto lo deride ma sono tutto sommato momenti abbastanza brevi e poi a un certo punto si ammala quando Zeno arriva intorno ai 30 anni vero questo ci dice nella sua narrazione nel suo racconto si ammala e la malattia che lo colpisce è una sorta di ischemia noi lo deduciamo ovvero dal racconto preciso che Zeno fa della malattia del padre fino ad arrivare al momento finale quando il padre in una condizione ormai di estrema difficoltà di energie diciamo si alza in una con questa sua volontà confusa comunque di volersi muovere di volersi alzare e Zeno cerca di impedirglielo perché il medico aveva assolutamente consigliato di tenerlo fermo il più possibile e il padre come momento finale della sua vita lo schiaffeggia ecco questo è davvero noi leggiamo soltanto una parte naturalmente è vero ma è quello che rimane poi nella mente nell'animo di Zeno come l'insulto finale del padre che non riuscirà più a recuperare con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi alzò la mano alto alto come se avesse saputo che egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia poi scivolò sul letto e di là sul pavimento morto non lo sapevo morto ma mi si contraste il cuore dal dolore della punizione che egli moribondo aveva voluto darmi con l'aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto piangendo proprio come un bambino punito di gridare nell'orecchio non è colpa mia fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di stare sdraiato era era una bugia poi ancora come un bambino aggiunsi la promessa di non farlo più ti lascerò muovere come vorrai ecco quindi questo è un episodio vero circoscritto se vogliamo nel romanzo ma che ha un peso davvero straordinario nella vita di di zeno non vivrà ovviamente con questo cruccio sempre presente ma nella profondo dell'anima rimane rimane e ritornerà in momenti particolari e arriviamo alla salute e alla malattia a queste antitesi che invece si sono sempre presenti da un certo momento in avanti nell'anima di zeno scusate nella coscienza di zeno la malattia è una convinzione ed io nacqui con quella convinzione di quella dei miei vent'anni non ricorderai gran cosa se non l'avessi allora descritta ad un medico curioso come si ricordino meglio le parole dette che i sentimenti che non arrivarono a scotere l'aria perché le parole dette scuotono l'aria vero noi nel parlare nel pronunciare produciamo un piccolo movimento d'aria invece i sentimenti sono qualche cosa di così profondamente nascosto dentro di noi e noi ricordiamo di più le parole le due caricature ecco quest'altra quest'altro brano è tratto invece dal primo incontro che Zeno Cosini ha con quello che dicevamo il suo rivale Guido Speier nella casa d'origine della moglie non ancora sua moglie naturalmente ma nella quale i due giovani si recano entrambi con l'intenzione di sposare una delle quattro sorelle di questo Giovanni Malfenti dicevamo commerciante di grande successo giocatore in borsa che lui assume come emblema della salute e della vita serena allegra vittoriosa la vita sana allora gli fanno delle caricature Guido Speier proprio gli fa delle caricature di lui appunto un po' non proprio pelato ma insomma qui parla di grande calvizie un po' calvo in fondo le due caricature raggiungevano lo scopo e facevano ridere col mezzuccio semplice che l'individuo è che doveva rappresentarmi in vero affatto somigliante ma caratterizzato da una grande calvizie era identico nel primo e nel secondo schizzo e si poteva perciò figurarselo tanto distratto da non aver cambiato di aspetto per il fatto che un ombrello lo aveva trafitto ecco la distrazione il soggetto di queste caricature è la distrazione di Svevo e Guido Speyer le presenta tutti quelli che stavano intorno vero al tavolo in quel momento e tutti risero molto e anzi troppo mi dolse intensamente il tentativo tanto ben riuscito di gettare su me il ridicolo fu allora che per la prima volta fui colto dal mio dolore lancinante quella sera mi dolse l'avambraccio destro e l'anca un intenso bruciore un formicolio nei nervi come se avessero minacciato di rattrappirsi stupito portai la mano destra all'anca e con la mano sinistra afferrai l'avambraccio colpito tutto questo nel capitolo che si intitola la storia del mio matrimonio ecco ve l'ho riportato per richiamare l'attenzione appunto a questa dicotomia salute e malattia e a questo momento della prima origine di quella che lui considererà la malattia di tutta la sua vita un dolore un dolore che a volte è talmente forte da impedirgli la deambulazione ancora sempre appunto sulla storia del del matrimonio non lo leggiamo tutto questo ma anche qui c'è un passaggio che pure rientra nelle leggende letterarie Zeno incontra un amico che più o meno ha la sua età ma che è assolutamente zoppicante è in difficoltà nel camminare ha una malattia di cui non si riesce a capire la causa ma con la quale ormai ha un po' imparato a convivere mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si muovevano niente meno che 54 muscoli tra secolai e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina mostruosa io credo di avercela trovata naturalmente non riscontrai 54 ordini ma una complicazione enorme che perdette il suo ordine da che io vi ficcai la mia attenzione uscì da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai sempre il camminare era per me divenuto un lavoro pesante e anche lievemente doloroso a quel groviglio di congeni pareva mancasse ormai l'olio e che muovendosi si le dessero a vicenda pochi giorni appresso fu colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il primo e poi appunto il resto vero il resto della lettura magari lo lasciamo a voi no? qui sono andata indietro eccolo qua bene la adesso parliamo appunto no scusate credo di essere andata troppo avanti no? mi fermo un attimo no? forse questo qui viene viene dopo passiamo invece alla seduta spiritica poi recuperiamo l'altra l'altra diapositiva sempre in quella sera in cui avviene peraltro la presa in giro per le caricature di Guido no questa è la sera successiva scusate viene invitato ad una seduta spiritica durante la quale lui decide di rivelare ad Ada il suo amore Ada che aveva sempre dimostrato nei suoi confronti in tutte le frequentazioni precedenti non disinteresse ma disprezzo addirittura ma che secondo lui era la più bella e che aveva deciso doveva essere sua moglie in ogni caso la decisione di Zeno è ancora precedente alla conoscenza delle quattro figlie di Giovanni Malfenti la decisione avviene quando lui conosce Giovanni Malfenti nella in qualche seduta di borsa e sente dire da altri che Giovanni Malfenti aveva quattro belle figlie in età da marito in realtà le figlie in età da marito sono tre perché l'ultima ha otto anni quindi viene immediatamente esclusa ma le altre tre appunto dovevano essere tutte e tre belle mentre secondo Zeno quella veramente bella era Ada che era anche in età giusta poi c'era Alberta bella ma troppo giovane 17 anni e c'era Augusta c'era Augusta che aveva forse un anno o due meno di Ada quindi era anche lei perfetta dal punto di vista dell'età ma che lui giudica invece meno bella anzi brutta perché parla di un occhio strabico e poi di una serie di altri difetti non meglio specificati comunque che noi poi capiremo nel prosieguo della storia che non sono così reali così veri come appunto ci racconta Zeno durante questa seduta spiritica la così l'elemento diciamo di ironia e di divertimento sta nel fatto che al buio Zeno si siede in mezzo a due sorelle e crede che l'una sia Ada e decide quindi di approfittare della vicinanza e della favorevole situazione di buio per rivelarsi ad Ada e lo fa qualche riga più in basso tolsi la mia destra dal tavolino e pian pianino le posi il braccio alla taglia che significa alla vita io vi amo Ada disse a bassa voce avvicinando la mia faccia alla sua per farmi sentire meglio la fanciulla non rispose subito poi con un soffio di voce però quella di Augusta mi disse perché non veniste per tanto tempo la sorpresa e il dispiacere quasi mi facevano a crollare dal mio sedile subito sentì che se io dovevo finalmente eliminare quella seccante fanciulla dal mio destino pure dovevo usarle il riguardo che un buon cavaliere quale sono io deve tributare alla donna che lo ama e sia ad essa la più brutta che mai sia stata creata come mamava nel mio dolore sentì il suo amore non poteva essere altro che l'amore che le aveva suggerito di non dirmi che essa non era Ada ma di farmi la domanda che no scusate ogni tanto mi sfugge eccoci qua ma di farmi la domanda che dà avevo attesa in vano e che lei invece certo si era preparata di farmi subito quando mi avesse rivisto e quindi glielo dice ho tuttavia piacere di essermi confidato a voi Augusta che io credo tanto buona mi rimisi subito in equilibrio sul mio treppiede allora è evidente che questa è una situazione di umorismo Zeno crede di parlare ad Ada che pure lo disprezza per dichiararle il suo amore e invece lo dichiara ad Augusta di cui ha ben capito l'amore non fino a questo punto non al punto di tacere di non chiedere più di tanto sul fatto che lui abbia sbagliato persona bene e continua comunque la serata con questo così exploit di Guido perché Guido suona il violino lo suona ah no scusate qui siamo ancora nella seduta spiritica la seduta spiritica che viene truccata da Zeno e questa è veramente una scelta una decisione che rivela tutta la sua incapacità di comprendere le situazioni di comprendere i comportamenti necessari in determinate situazioni lui falsa la seduta spiritica fingendo dei movimenti del tavolino creando procurando dei movimenti del tavolino rispondendo quindi alle domande che Guido Speyer che era il conduttore della seduta spiritica è vero faceva ora lascio poi a voi la lettura di questa parte alla fine della quale di questo episodio alla fine del quale Guido ben si rende conto che c'era chi stava giocando su questa cosa perché per dare una risposta precisa quindi per rispondere che le questioni economiche di Guido stavano andando veramente molto male Zeno dà una spinta così forte al tavolino che provoca una sorta di ribaltamento e quindi Guido e tutti gli altri capiscono che qui c'è qualcuno come dice alla fine che si diverte alle nostre spalle bene e passiamo allora alla alla moglie nella serata della della seduta spiritica avviene che per una serie di così riflessioni di passaggi psicologici assolutamente devastanti Zeno finisca per chiedere la mano non al padre naturalmente ma alle sorelle prima ad Augusta nonostante scusate prima ad Ada nonostante tutto quello che è successo anche durante la seduta spiritica e Ada naturalmente lo respinge sdegnata tanto più che l'amore tra Ada e Guido Speyer ormai si sta manifestando sempre di più e Ada ne è consapevole allora decide per non tornare in solitudine perché quella casa non gli venga preclusa per continuare nelle frequentazioni a cui oramai era abituato quello appunto di casa Malfenti e di Giovanni Malfenti ma delle figlie Malfenti decide di chiedere ad Augusta la quale gentilmente declina perché dice riferisce insomma di voler continuare nei suoi studi universitari e quindi di nuovo si ritrova senza alternative e allora decide di chiedere ad Augusta quella Augusta che non gli piaceva quella Augusta che lo aveva già di cui aveva già sentito la voce durante la seduta spiritica che lo aveva appunto accolto che aveva fatto finta di non di non cogliere fino in fondo ovvero la indelicatezza l'errore di questa di questa domanda e che comunque lo amava tutta la famiglia sapeva che Augusta era innamorata di Zeno e avviene quindi che la proposta venga fatta anche ad Augusta la quale gli risponde in un modo veramente garbato e intelligente che lei ha ben capito che lui ha bisogno di avere accanto a sé una donna che lo segua che lo cura che faccia tutto per lui e lei vuole essere quella donna e così avviene il matrimonio e così avviene il viaggio di nozze che è un viaggio di nozze in cui durante il quale Zeno si innamora di Augusta in modo del tutto imprevisto e imprevedibile mentre Augusta vive una fase di felicità che naturalmente era nelle sue aspettative avevo e ecco Augusta diventa quindi la moglie di Zeno ma la moglie sana la moglie che lo sosterrà e che diventerà il suo modello di vita in tutte le situazioni aveva una tale fede in quella salute di Augusta che mi pareva non potesse perire che sfracellata sotto un intero treno in corsa ci sarebbe voluto un intero treno in corsa per far morire Augusta tanto era serena era serenante e solida nelle sue nelle sue volontà nei suoi desideri poi invece seppi che essa neppur sapeva come fosse fatta la salute la salute non analizza se stessa e neppur si guarda nello specchio solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi ecco e quindi abbandoniamo vero questo questa lettura su Augusta anche se io ve lo dico in modo molto sintetico ci rivela come la bruttezza di Augusta non fosse tale perché in varie occasioni come appunto in questa che non non leggiamo ma anche in questa vero Zeno si ritrova geloso di Augusta e l'abbiamo già visto nell'episodio sul fumo che abbiamo visto insieme prima eh bene ehm Guido Guido diventa il rivale diventa eh l'antitesi totale il l'oppositore di di Zeno e addirittura c'è un momento in cui Zeno si convince di essere in grado di uccidere Guido e tutto questo non avviene poi naturalmente ma lui si sente non solo in grado ma veramente in procinto di uccidere Guido non succede e tutto questo mi causa un ulteriore dolore mi piegai sulle ginocchia battendomi su me stesso e arrivando quasi a toccare il suolo con la mia testa che dolore che dolore urlai spaventato Guido balzò in piedi a domandarmi delle spiegazioni io continuai a lamentarmi più mitemente senza rispondere sapevo perché mi lamentavo perché avevo voluto uccidere e forse anche perché non avevo saputo farlo il dolore e il lamento scusavano tutto e quindi passiamo rapidamente a un passaggio successivo perché Guido che finisce per sposare Ada si rivela poi un personaggio assolutamente inaffidabile si rivela un traditore la bella Ada che lo ama in modo assolutamente spassionato e profondo non gli basta e già l'aveva capito questo Zeno perché in un'occasione precedente Guido l'emblema anche lui del successo della forza della capacità di piacere eccetera eccetera ebbene Guido aveva passato un lungo tempo a parlargli male delle donne mentre Zeno si stupiva fortemente di tutto questo perché non capiva come amando Ada avrebbe potuto pensare così male delle donne e quindi Guido gioca gioca in borsa spende il suo denaro tra amanti e perdite in borsa la famiglia va a rotoli ci sono due gemelli Ada si ammala si ammala di tiroide morbo di base dove vero per cui addirittura imbruttisce poi guarirà in una certa misura non del tutto e veramente lo sfacelo mentre la famiglia di Zeno è Florida grazie ad Augusta ma anche grazie a Zeno in fondo che fino a quel momento si è comportato in modo da tenere a bada tutte le sue contraddizioni anche le sue cattiverie anche i suoi tradimenti ma è stato capace di tenere a bada tutto non è positiva non è non stiamo rivelando ovvero un aspetto positivo di Zeno Cosini ma invece stiamo dicendo che così come avviene effettivamente nel romanzo Guido va alla rovina e per cercare di ottenere soldi dalla famiglia di Ada da Ada stessa finge il suicidio una volta viene salvato in tempo l'altra volta purtroppo muore senza volerlo il suicidio diventa diventa una una tragedia vero e allora il funerale prima del funerale si svelano tutte le perdite di la rovina finanziaria diciamo di Guido e Zeno incaricato da tutta la famiglia si impegna a recuperare questo capitale che lui aveva sperperato sprecato perso in borsa e questo avviene proprio nel giorno del funerale di Guido quando anche Zeno naturalmente avrebbe dovuto partecipare e invece preso da questi affari che stava concludendo positivamente perde il funerale di Guido e quando finalmente in ritardo ma arriva si accorgono lui e questo Nilini che era un impiegato della società che aveva vero con Guido ebbene si accorgono di avere sbagliato funerale la vettura continuava a procedere dietro al funerale che si avviava al cimitero greco il signor Guido era greco domandò sorpreso questo Nilini infatti il funerale passava oltre al cimitero cattolico e si avviava a qualche altro cimitero giudaico greco protestante o serbo può essere che sia stato protestante dissi io da prima ma subito mi ricordai di aver assistito al suo matrimonio nella chiesa cattolica deve essere un errore esclamai pensando da prima che volessero seppellirlo fuori di posto ecco e comunque è naturalmente di grande significato il fatto che Guido alle prese certo con questi affari che andavano assolutamente conclusi vero si perde il funerale di Guido e poi saltiamo direttamente al finale in mezzo tra appunto la morte di Guido e questo finale che dicevo assolutamente particolare perché è un finale in cui si preannunzia si profila una una sorta di catastrofe del mondo è vero in mezzo c'è l'affermazione di Zeno c'è tutto quello che dicevamo prima il fatto che Zeno prima della guerra e poi durante la guerra in cui si ritrova da solo a Trieste perché la famiglia si sposta a Torino per trovare una collocazione più sicura la moglie e i due figli non l'abbiamo detto ma non è tanto importante nel romanzo non è mai che hanno Augusta e Zeno perché Augusta sono il centro della vita per Zeno sono importanti ma non rientrano mai nelle sue preoccupazioni e nei suoi discorsi ebbene questo Zeno che tra l'altro lo dicevamo prima è andato incontro anche a dei tradimenti nei confronti di Augusta che ama che stima in tutti i sensi e che oramai è diventata per lui il centro della vita quella che gliela organizza che fa in modo che ogni cosa vada al suo posto giusto che lo conforta che lo consola per tutti i suoi mali ebbene Zeno tradisce Augusta tra l'altro con una fanciulla che finirà per trattare piuttosto male considerandola come un'approfittatrice che invece non è non sarà e questo è Zeno Cosini un uomo profondamente è vero cosciente a questo punto di tutti i suoi grigi di tutti questi aspetti sicuramente non positivi della sua della sua persona e arriviamo quindi a questo finale Zeno uomo commerciante di successo che oramai ha accantonato ancora più capitale rispetto a quello che aveva prima e che quindi ha recuperato una fiducia che non aveva mai avuto in sé e come dicevo prima si dice guarito ma in una società completamente malata integrato ovvero in questa società completamente malata ce lo rivela in questo finale questi sono proprio il brano che chiude il romanzo ma l'occhialuto uomo invece lo scienziato qui si intende proprio lo scienziato inventa gli ordini fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò quasi sempre manca in chi li usa gli ordini si comperano si vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza i primi suoi ordini parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso ma ormai l'ordino non ha più alcuna relazione con l'arto si intende l'industria meccanica quella che agisce al posto dell'uomo vero? ed è l'ordino che crea la malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice la legge del più forte sparì e per demo la selezione salutare altro che psicanalisi ci vorrebbe sotto la legge del possessore del maggior numero di ordini prospereranno malattie e ammalati laddove vi ricordo per malattie e ammalati noi intendiamo in senso ampio e generale qualunque tipo di malattia ma nel senso invece più precisamente riferibile alla coscienza di zeno è la malattia di tipo psicofisico forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordini ritorneremo alla salute quando i gas velenosi non basteranno più un uomo fatto come tutti gli altri nel segreto di una stanza di questo mondo inventerà un esplosivo incomparabile in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri ma degli altri un po' più ammalato ruberà tale esplosivo e si arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto dove il suo effetto potrà essere il massimo ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa terrerà nei cieli priva di parassiti e di malattie ecco questo è il finale che naturalmente noi possiamo considerare soltanto come un finale del tutto negativo allora se è vero che appunto Zeno ha recuperato la sua salute lui ce lo dice lo afferma in tutti i modi ma è altrettanto vero che Zeno è consapevole di non avere cioè che non si può estirpare la malattia dal mondo da quel mondo che va verso un processo di industrializzazione sempre più serrato sempre più forte e per il quale lui quindi non può che prevedere una catastrofe e mi fermo qui perché siamo andati incredibilmente oltre il nostro tempo